Allora, continuiamo il dopo cinema di Cosmopolitan con una persona che incarna un po' entrambe le anime di musica e cinema, io direi soprattutto per una sua grandissima passione che sono le colonne sonore, ed è Joan Tile, che è qua con me. Ciao! E che, peraltro, riduce non molto tempo fa dalla vittoria del David di Donatello per Proiettili, per Ti mangio il cuore, scritta, prodotta, mi ricordo che me l'avevi raccontato durante un'intervista per Cosmo, che avevate ultimato la canzone nello studio di Elisa, quindi chi meglio di te da avere qua in questo momento? Grazie, per me è un piacere essere qui, tra l'altro super last minute, questa cosa mi è piaciuta molto, il Festival di Venezia è sempre un'emozione incredibile, esserci è stata l'anno scorso per la presentazione del film, ovviamente mi ha fatto scoprire un mondo che già amavo, quindi quest'anno ho il piacere di essere qua, insomma, a sentire un po' cosa succede, vedere cosa succede. E cosa ha cambiato dall'anno scorso? Allora, come sai, la mia super passione sono le colonne sonore, quindi quello che in realtà è cambiato, forse non è cambiato niente in realtà, al di là dell'esperienza del Davide Donatello, che è stata ovviamente bellissima, però è più che il premio in sé, il fatto di essere riuscita a entrare nel mondo un po' delle colonne sonore, che è quello che mi facerebbe fare, al di là dei miei pezzi, eccetera, della musica, di riuscire a scrivere solo per i film, quindi è un proposito, ecco. Tra l'altro tu hai un immaginario musicale che è estremamente cinematografico, non solo perché hai scritto una canzone che si chiama Cinema e per proiettili, ma perché affondi tutto in questa estetica proprio filmica. Da dove nasce? Allora, tutto nasce per una mia grande passione, che è Piero Umiliani, che tu conosci, non so se appunto qui lo conoscono. L'avranno sentito sicuramente, perché abbiamo appunto le musiche di Cam Sugar, e oggi hanno trasmesso Piero Umiliani tutto il giorno. È stato fantastico, non nasce solo da Piero Umiliani, in generale proprio dalla colonna sonora, che mi ha cambiato un po' il punto di vista sulla musica in generale, perché da quando ho scoperto appunto Umiliani, Piccioni, ovviamente Morricone, eccetera, però soprattutto Umiliani, Piccioni, ho iniziato ad appassionarmi di cinema, quindi è stata la colonna sonora a portarmi verso il cinema, quindi senza effettivamente magari inizialmente conoscere tantissimi film quando ero ragazzina, però ascoltavo queste musica e impazzivo, dicevo wow, e da lì poi ovviamente ho iniziato ad appassionarmi al cinema e a trasportare un po' quello che era l'immaginario del cinema nella musica. Ma c'è un film poi in particolare che ti ha dato là per appassionarti anche alla parte più visiva? Allora, un film per me di super ispirazione, La ragazza con la pistola, di Monicelli, che per me è visivamente, Monica Vitti quel film, è proprio un'ispirazione anche proprio di look, secondo me, no? Sì, esatto, mega estetica, bellissima. Estetica, con questi vestiti neri, siciliana, questi capelli che poi ho scoperto tramite un'intervista che la parrucca era il contrario, cioè praticamente è stato un errore, è stato un errore il suo look, perché pare avesse, questo me l'ha raccontato un giornalista in realtà, questa storia quindi non voglio profiarmene, me l'ha raccontata lui, ma che la parrucca era in un determinato modo perché non so se chi si occupava delle parrucche aveva lasciato poco prima il film, quindi lei l'hanno messa a caso ed è diventato un look secondo me iconico, quindi a volte dà l'errore anche... Ti nasce tutta la bellezza. Sì, sì. E invece se ti chiedo il primo ricordo che hai legato al cinema, adesso parlavamo di film, è proprio il primo ricordo che hai, il primo film che hai visto quando eri piccola, prima parlavamo appunto, c'era Giulia Valentina e mi diceva che il primo film visto era L'odio con Vincent Cassel e le ho detto che per la mia generazione di solito è Il Principe d'Egitto. Volevo sapere il tuo per capire se sono la sua. In realtà non lo so, cioè non lo so qual è stato il primo film, sai? Perché poi non è che il primo film... Oddio sai che è... Difficilissimo. Sai che è una domanda difficile questa? Vabbè ci sono diversi cult, tipo... Puoi mentire, puoi mentire, se no ho un altro facile a dire Titanic. Il Titanic, che è il Titanic ovviamente, era lui. Tu ieri hai visto Poor Things, ne parlavamo prima, per cui hai fatto il red carpet, che è un film distopico, steampunk, onirico. Quando ti ho intervistato un po' di tempo fa mi avevi detto una frase molto bella, parlando di sogni che entrano nelle canzoni e viceversa, che era stata, io vivo, sono molto poco presente su questa terra. Spiegalo. Allora sì, detto questa frase in maniera estremamente sincera, a volte mi sento poco presente e poi per questo uno decide anche di andare dallo psicologo, no? In generale, quindi scherzi a parte, però... ovviamente il cinema rappresenta un po' anche tutto questo immaginario di non presenza, perché ti permette poi di poter viaggiare molto con la mente, di poter sognare, di poter entrare in diversi mondi ed è un po' la sensazione che mi ha dato il film di ieri, che è Poor Things, che hai visto anche tu, incredibile. incredibile, cioè sono rimasta veramente scioccata dal film di ieri. Incredibile, per chi non l'ha ancora visto si tratta di una storia, questa sorta di Frankenstein al femminile, come l'hanno definito tutti, che è quasi però a metà tra un trattato femminista e un, ieri dicevamo, un videogioco steampunk. Sì, steampunk 800, tipo... Perché com'è questo momento meraviglioso, estremamente in linea con quello che stiamo dicendo. Sì. No, esteticamente era tantissimo tempo, vabbè, al di là... Sì, partiamo dall'estetica, un film che a livello estetico mi ha molto colpito, perché come dici tu, è tra lo steampunk 800, appunto riferimenti, secondo me, che ricordano appunto come dicevamo, un po' Bosch, quadri fiamminghi e allo stesso tempo magari La città delle donne, di Fellini, ci sono proprio degli elementi dell'assurdo, però oscuro, quindi non è un assurdo che in qualche modo ti dà serenità. Però quel tipo di estetica poi unito a dei valori, a dei racconti come quelli del... in un periodo poi così fragile come questo, in cui si discute molto sul femminile, sulla violenza, su tanti aspetti, un film come quello di ieri, appunto, Poor Things, va proprio a toccare in maniera più, diciamo... Precisa. Precisa e neanche polite, che mi è anche piaciuto in realtà, perché è anche scomodo in qualche modo e questa cosa ogni tanto ci vuole, cioè anche sempre essere... raccontare le cose in maniera sempre iper... è giusto a volte ogni tanto raccontarle in un modo più forte, ecco. Visto che stai parlando di raccontare le cose in modo forte, soprattutto riuscire a raccontare la fragilità in modo così forte, che in Poor Things parliamo di grottesco, è una cosa che applichi nella tua musica? in realtà sono super stata abbastanza delicata, ma era forse una delicatezza derivata un po' dalla paura di a volte raccontare le cose e recentemente sono un po' dell'idea che forse le cose vanno raccontate in maniera un po' più istintiva e quindi sono in una fase della mia vita in cui sto cercando di raccontare tutto in maniera più istintiva. Allora io adesso come ultima domanda, visto che abbiamo parlato anche di sogni e tu mi hai detto che ti piacerebbe, anche se hai già scritto proiettili per il quale hai vinto, lavorare, comporre una colonna sonora per un film, qual è il film ideale per cui vorresti comporre una colonna sonora? tipo Tarantino che è tutto fuorché fragile, peraltro è delicato Giovanna io ti ringrazio tantissimo per essere stata insieme a noi, grazie mille avete sentito? senti ho, grazie grazie